Tornano a farsi sentire i dipendenti comunali di Capodorlando che lamentano i mancati pagamenti arretrati. Ieri si è svolto un incontro online tra la prefettura e i rappresentanti sindacali degli impiegati di Palazzo Europa. A fine riunioni abbiamo deciso di congelare un po' questo passaggio perché anche se abbiamo ricevuto qualche giorno addietro il mese di giugno 2020 abbiamo chiesto rassicurazioni sulla tredicesima che il sindaco ha detto che dovrebbe pagare da qui a qualche giorno. Abbiamo chiesto con forza anche il pagamento di marzo e aprile. Purtroppo l'amministrazione dovrebbe prendere coscienza che l'obiettivo di pagare lo stipendio deve essere prioritario perché se noi continuiamo ad aspettare soltanto le somme che ci deve accreditare la regione siciliana per quanto riguarda il finanziamento e il pagamento da vuota parte di questi stipendi diventa difficile. Quindi dobbiamo cercare di trovare tutti gli strumenti necessari affinché lo stipendio sia garantito alle valutori a fine mese. Allora come dicevo poco fa abbiamo appena percepito giugno 2020. Manca la tredicesima, manca marzo e aprile e ora già abbiamo 20 di maggio quindi fra qualche settimana scatterà anche il mese stesso del maggio. Quindi è una situazione un po' imbarazzante ma veramente speriamo che insieme all'amministrazione comunale possiamo trovare la soluzione giusta perché così avanti non si può andare. Il sindaco ha preso l'impegno che pagherà appunto la tredicesima da qui a qualche giorno. Lui continua a ribadire che i finanziamenti della regione sono prioritari e questo ci mancherebbe altro è vero però purtroppo se la regione per un motivo per un altro ha delle difficoltà dobbiamo trovare un'altra strada per forza se no significa che tu rischi un mese, due mesi, tre mesi come stiamo facendo di rimanere senza soldi e quindi aspettare la mannata al cielo che poi diventa difficile. Grazie a tutti. Grazie a tutti.